Musica Corner vincente dopo tante tante partite prese in considerazione, giocate Dopo tanti denari investiti in questa strategia andiamo a vedere i passaggi Quali sono le partite da prendere in esame? Questo è il primo passaggio che andiamo a vedere Partite in cui c'è una squadra favorita in prematch con quote pari o inferiori a 1.86 Sia in casa che in trasperta, quindi la quota in prematch di una delle due squadre In casa o in trasperta deve essere al massimo a 1.86 Quindi può essere a 1.50, 1.52, 1.40, 1.60 Non deve essere oltre l'1.86 Quindi ci deve essere una favorita e per l'appunto la quota in questione deve essere pari o inferiore a 1.86 Quindi 1.90, 1.95 non ci va più bene Si gioca prima o durante il match? Si gioca durante il match dal minuto 68 fino al minuto 76 circa In questi 8 minuti dobbiamo cercare l'over ideale nei corner E quindi dobbiamo avere un numero di corner adeguato Ovviamente con una quota adeguata Quindi dal minuto 68 alla 76 dobbiamo ricercare un numero di corner ideale Che potrebbe concretizzarsi ad una quota ideale La favorita deve perdere o pareggiare Abbiamo visto che dobbiamo guardare come e quale quota prendere della favorita in prematch Quindi durante il match dal minuto 68 in avanti la favorita deve perdere o pareggiare Se gioca in casa può perdere o pareggiare in quel momento Quindi intorno al sessantottesimo o settantesimo minuto che sia Deve o perdere o pareggiare se gioca in casa Se gioca invece in trasferta deve perdere in quel determinato momento Quindi il pareggio non mi sta bene se è in trasferta Se è in casa invece deve perdere o pareggiare Devo seguire qualche indicatore nel corso del match Sì, devo vedere che i tiri della favorita in prematch Sia i tiri in porta che fuori Sia maggiore dell'avversario Anche solo di un tiro Ma che siano entrambi questi indicatori Entrambe queste voci Abbiano un tiro in porta Almeno un tiro in porta in più rispetto all'avversario E almeno un tiro fuori porta in più rispetto all'avversario Il possesso palla deve essere pari o superiore Al 57% per la favorita Nel minutaggio di entrata Quindi sessantottesimo, settantasesimo minuto In questo minutaggio di tempo Deve essere pari o superiore al 57% Quindi può essere al 58, 59, 60, 62 L'importante è che non sia sotto il 57% Per la favorita in prematch ovviamente La quota minima d'ingresso Quale dovrebbe essere? Dobbiamo ricercare un over nei corner Con quota minima a 1,74 Minimo 1,74 Poi se riusciamo a prendere una 1,76 1,80 1,90 O anche superiore A seconda della partita A seconda di come si sviluppa il match A seconda delle caratteristiche delle squadre Perché poi più si va avanti Più si conoscono le squadre I campionati Si capisce molto bene Ad esempio l'Irlanda del Nord Con la Germania Era una partita in cui l'Irlanda del Nord Non aveva nessuna paura Nessun timore A concedere gli angoli Alla Germania Poi la Germania ha smesso Di attaccare E quindi di fatto Non sono più arrivati i corner Ma ne sono arrivati diversi Perché abbiamo delle squadre Che non hanno nessun tipo di problema A concedere i corner Né quando sono sotto A maggior ragione Quando pareggiano O addirittura sono sopra col punteggio Quindi più andremo avanti E più riusciremo a prendere Delle quote migliori Ovviamente la quota minima Di riferimento però Deve essere pari a 1,74 Facciamo un esempio Nella partita a Napoli-Bologna Il Napoli sta perdendo in casa 0-1 al settantesimo minuto Abbiamo fino a quel momento 8 corner E vediamo l'over 9,5 Con quota a 1,71 Non ci va ancora bene Quindi aspettiamo che arrivi a 1,74 1,76 E la prendiamo in considerazione A seconda del tipo di quota Vediamo se saranno Due corner ancora da battere Tre corner ancora da battere Un corner ancora da battere A seconda della dinamica Della partita Delle circostanze A seconda ovviamente Di come si sta sviluppando Il match in quel momento La quota minima Comunque sia Deve essere pari a 1,74 C'è un numero minimo di corner Che deve essere battuto Nei minuti cruciali Della partita Assolutamente no 3, 5, 11, 14, 12, 10, 8 È indifferente Non c'è nessuna preclusione Né di troppi corner Né di troppi pochi Non c'è nessuna preclusione Da questo punto di vista Ci sono campionati Dove sarebbe meglio Non giocare Dei campionati strani Particolari Dei campionati Dove arrivano pochi corner Dove le azioni Non prediligono L'arrivo di corner Ci sono dei campionati Anomali Particolari Dove sarebbe meglio Non giocare Assolutamente no Tutti i campionati Anche minori o femminili Sono giocabili Ci sono delle squadre E l'ho riportato I corsisti Che purtroppo Per loro natura Anche quando sono sotto Col punteggio O in parità in casa Fanno fatica Per il loro modo di giocare A collezionare Molti corner Ma di norma Tutti i campionati Come detto Anche minori o femminili Sono assolutissimamente Giocabili La squadra favorita In prematch Può giocare In 10 contro 11 O 9 contro 11 O 9 contro 10 Allora Ovviamente Devono essere rispettate Le condizioni Dei tiri in porta Fuori porta E del possesso di palla Se sono rispettate Tali indicazioni Tali indicatori Può giocare In 10 contro 11 In tutti gli altri casi Ci sono state Delle anomalie Quindi 9 contro 11 O in 9 contro 10 Nonostante Gli altri indicatori Magari Ci diano il 58% Di possesso di palla 11 tiri Fuori porta 4 4 tiri in porta Contro i due Dell'avversario Però ci sono state Delle anomalie Nei rari casi In cui si sono verificate Situazioni strane 9 contro 11 9 contro 10 Nel tempo stesso C'erano le condizioni Gli indicatori Col possesso di palla E tiri in porta E tiri fuori porta In 10 contro 11 Invece Non ci sono problemi Quindi Se abbiamo le condizioni Del possesso di palla Dei tiri in porta Di tiri fuori porta E abbiamo la squadra Favorita in pre-match 10 contro 11 Non ci sono problemi È chiaro che il problema Potrebbe arrivare Se l'espulsione Arriva dopo Che abbiamo investito Dei soldi Arriva mai al 78esimo E noi abbiamo investito Al 70esimo minuto Quindi potrebbero Venire meno delle condizioni Così come Un gol Che arriva Al 78esimo 80esimo 82esimo Da parte della favorita E quindi magari Va in vantaggio O pareggia Il conto Se si trova fuori casa Quelle sono condizioni Che purtroppo Si possono verificare Dopo Che abbiamo investito Prima di investire Appena prima di investire Però La squadra favorita In pre-match Può giocare In 10 contro 11 Potrebbe verificarsi La circostanza In cui la squadra favorita Sta giocando In 10 contro 11 Ma ha più possesso di palla Ha più tiri in porta Ha più tiri fuori porta E quindi la possiamo Comunque prendere In considerazione In 9 contro 11 E in 9 contro 10 Invece no Posso giocare Posso giocare Su questa strategia E' chiaro ed evidente Che essendo già qualificata Poi magari Potrà collezionarne Anche mille di corner Spagna Bulgaria O Spagna Isole Farò E sto facendo degli esempi Prettamente casuali Spagna sotto Col punteggio in casa Ma non ha la motivazione Tale Per andare a vincere O pareggiare Quella partita Poi magari La vince anche 3 a 1 Ma non abbiamo La motivazione principale Perché è già qualificata D'Euro 2020 Lo stesso Ma li possiamo Dire dell'Italia Se si dovesse Qualificare In anticipo D'Euro 2020 Che magari Affronta In casa Che so L'Armenia O altre Nazionali Adesso non ho ben Preciso il calendario Delle nazionali Perché non sono appassionato Onestamente Delle partite Delle nazionali Nei gironi eliminatori Che sono di una noia mortale Però Fondamentalmente Se abbiamo Delle nazionali Già qualificate All'europeo Nel caso specifico Parliamo di squadre Europee Già qualificate Non le prendiamo In considerazione Se invece abbiamo La favorita in pre-match Che si deve ancora Qualificare Invece Sussistono Le condizioni Viste in precedenza Ma invece Per le amichevole Non prendiamo mai In considerazione Questa strategia Per le partite Amichevoli Di tutto il mondo Su quale bookmaker È preferibile Giocare I corner La strategia Sui calci D'angolo Bet365 È il miglior bookmaker Che consiglio Quindi a livello personale Bet365 È in assoluto Il miglior bookmaker Per la strategia Per la strategia Sui calci D'angolo È tutto O ci sono altri parametri A cui stare attenti C'è un ultimo filtro C'è un filtro dinamico Per coloro Per coloro I quali Ovviamente Lo vogliono Sapere Quindi Tutti i corsisti Mi possono contattare Li ho già avvisati E mi possono Ovviamente Ricontattare Quando vogliono E come vogliono Tanto i contatti Ce li hanno Per conoscere L'ultimo filtro E che è incluso Assolutissimamente Nel costo Del corso Agli interessati Invece Con un costo Adeguato E recuperabile In breve tempo Avranno La possibilità Di conoscere Appieno Nei dettagli L'ultimo filtro Che sta dando Veramente Dei risultati Molto importanti Molto notevoli Quali sono I risultati Ottenuti Fino a questo momento Con questa Strategia Prendendo In considerazione Tutti i match Circa Il 73% Di giocate Vincenti Quindi Ancora Prima Dell'ultimo filtro Introdotto Prendendo In considerazione Proprio Tutta la strategia Delle sue origini Circa Il 73% Di giocate Vincenti La quota media È di circa 1.85% Quindi alcune Sono state prese Anche a 2% 1.95% 2.10% A seconda Del tipo di partita Di come si è sviluppata La partita E di una serie Di parametri In corso d'opera Per arrotondare Per difetto Quella ufficiale La dichiaro A 1.80% La cosa importante In ogni caso È di avere Una certa Logicità Nell'andare a prendere I corner Darsi il tempo Necessario Per conoscere Di imparare La stessa strategia E quindi Non avere La premura La pressione Di dover Prendere Una quota Troppo alta Nel momento In cui Poi Arriveremo A conoscere Meglio Determinate squadre Magari potremo Anche Azzardare Ad una quota Un attimino Più alta A seconda Di cosa Stiamo vedendo Durante la partita E come potremo Sfruttare Determinate Quote Inizialmente La cosa fondamentale È basarci Su una certa Semplicità Già andare A prendere Degli over A 1.75 1.76 1.77 È assolutamente Molto interessante Se riusciamo A prendere Una quota Migliore Tanto meglio Ma la cosa Importante E fondamentale È arrivare E fino adesso Ci stiamo arrivando Anche prima Dell'ultimo filtro Ad avere Circa Il 70% Di vincite Da questa strategia Con una quota Quanto meno A 1.75 1.76 E quindi È assolutamente Un risultato Più che soddisfacente Con queste condizioni Il record Di vincite Consecutive È 6 Il record Di perdite Consecutive È 4 Sappiamo Ovviamente Che ci sono Dei periodi Di varianza Negativa Ci sono Dei periodi Che dobbiamo Accettare Qualche perdita Fa parte Del gioco Accettando Le perdite Gestendo Le perdite Poi Si comincia Mattoncino Dopo mattoncino A costruire Il proprio successo Il proprio capitale Diventa Diventa sempre Più corposo Sempre più importante Proprio perché Si riesce A gestire Il periodo Negativo Se non si accetta Il periodo Negativo Se non si accettano Alcune perdite Consecutive Purtroppo Non possiamo Fare Betting O betting Exchange Non è il lavoro Che fa per noi Se vogliamo La perfezione Assoluta Il lavoro Certo Sicuro Senza problemi Senza noie Probabilmente Un lavoro Statale Fa per noi Quando parliamo Di betting O di betting Exchange Ovviamente Siamo imprenditori Di noi stessi E dobbiamo Assolutamente Gestire Al meglio Un periodo Negativo Quindi Questo è quello Che è successo Fino a questo momento Per quanto riguarda La strategia Del corner Vincente Dei calci D'angolo Vediamo Qualche Highlights Su qualche Video Pubblicato E poi Sul finale I ragguagli Le ultime Note Di questo Video Quindi Calcio d'angolo Numero Undici 6 a 5 A favore Del Rosengard Se non ho Conteggiato male Anzi 6 a 5 In favore Del Vaxio E Va bene Quindi Come Avete visto Ho anticipato Un attimino Poi farò Vedere Ed eccoci qui Al report Dell'archivio Più di 10 Quoto Bene In questi ultimi Minuti Secondo me Non ha assolutamente La forza Per impensierire Il Viborg Però Chissà mai Che un Corner In qualche Modo Potrebbe Arrivare E forse Arriva Adesso Non ho visto Non ho visto Chi l'ha deviata In realtà Ma quello che più Conta E che arriva Il gol E il Corner Pardon Per il Fredericia Quindi Di fatto Abbiamo La vincita Di 37 E50 Quota Interessante Più di 10 Corner E mezzo Parliamo Di 11 Corner 4 Sono Decisamente Troppi Quindi Dobbiamo Aspettare Fondamentalmente Che arrivi Una voce Più Benevola Più Favorevole Rispetto A Quella Attuale A 24 23 In questo momento Minuti Dal termine Della partita Quindi Con pazienza E tranquillità Se il risultato Si mantenesse Sullo 0 a 0 Quindi Qualora La Turchia Vada in vantaggio E quindi Dobbiamo Attendere Che ci sia Una quota Interessante Favorevole Però Su I calci d'angolo Che siano Umani E' vero che Ovviamente Perché mette In questo momento Per 3-6-5 Un più di 10 Corner E mezzo A 2-20 Perché A seconda Dei propri Parametri Statistici Considera Il fatto Che la Turchia Possa battere Diversi calci D'angolo Da qui Al termine Della partita E' chiaro Però Che Andare Ad avere Una quota 2-25 In questo momento 4 Angoli Che dovrebbero Essere battuti Da qui Alla fine Ci si può Arrivare Ma è un po' Rischioso Quindi La cosa Minuto Numero 72 Abbiamo Una quota Interessante A 1 E 80 Più Di 9 Corner Andiamo a fare La nostra Puntata Bene Ne servono Alcuni Staremo a vedere Se questi alcuni Arriveranno O meno Positivo E infatti Eccola qui La piena Testimonianza Di quello Che è successo Tra Turchia E Andorra Partita Terminata Per info Per info E richieste Sull'ultimo Filtro Su come Prenderlo Sui vari Campionati The Trading Online Chiocciola Gmail Punto Com Oppure Commenta Per Delucidazioni Su quanto Ho detto Quindi se Hai un Dubbio Una domanda Una cosa Che non Ti è chiara Su quanto Ho detto Per la strategia Basilare Del corner Vincente Puoi tranquillamente Commentare Sotto il video E quanto Prima Avrai Una risposta Se invece Vuoi avere Anche L'ultimo Filtro Determinante Per avere Dei risultati Di rilievo Superiore Puoi contattarmi A TheTradingOnline A chiocciola Gmail Punto Com Chiunque Mi conosce Sa che Tutti I costi Sostenuti Con la sottoscritto Poi vengono Ampiamente Ripagati E cerco Sempre Di far comprendere Al meglio E al dettaglio Tutte le persone Che mi contattano Quello che poi Vado Ad insegnare E al dettaglio E al dettaglio E al dettaglio E al dettaglio